no 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 scherzami si vabbè ma cos'è ha durata niente sta partita cioè chi è che ha sbannato lei? chi è che? chi ha sprontato? ero io ma perchè? no ha terminato non per noi no no perchè comunque a te c'è una fantasia per i titoli si è no tra moglie e marito l'avrei già usato quattro volte vabbè anche il titolo qua ha messo il followpad no? vabbè fai te vai mi do il supporto morale max rovina bravo io ho terminato occhio freddi ah bravo a me io levo già il totem vai 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 quando vai il scalso sei tu ce l'ho io ah che noioso eh un po' come la regione ah che noioso eh un po' come la regione io ti dalle lupo cesto mi lasci perdere per favore sarebbe un po' brutto che cacassi sono me e gli altri no ecco poi si entrano trascurati infatti io mi sento trascurato io mi sento trascurato si eh io no ci risolviamo ci risolviamo voce al generatore ce l'ha fatta ce l'ha fatta ce l'ha fatta troppo scusa vieni mi metto il genio sul comodino eh si infatti ti falmo io niente paura vieni io ho anche tempo per questo dai 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 ma io ho paura che questo mi vale morto fino all'ultimo nooo mi ha dormentato lo storico vengo io e te ho un paio da giugno ho anche tempo prezioso anche se ha l'uno io comunque tutto questo non ho ancora trovato l'ultimo eh io faccio la vita non devo dire che le pare ma stavo scherzando veramente e ti vuole bene ma è un po' troppo ma è un po' troppo ma è un po' troppo ecco sono stupido vai ma si si aspetta un po' che fa che ha terminato l'ossessione e non va a prende perché c'è decisi ma cristo santo io mi sono allontanato tantissimo da quel posto dai 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 si te pensa a giulio che io adesso penso c'è qua e qua e qua e qua eh lo so però almeno ti curo si eh si aspetta un attimino la batte ma non lo prende e quello è fatto e ripienaci beh 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 che dire bene è possibile ma te ridico l'ostatizzazione ma poi non sei neanche l'assessione eh bacca cara a te per palla si dovete chiusi se c'era l'altra va a fanculo e qui non le posso andare viva via via ho trovato lui il bello è che da tutta la partita che non riesca a sudare ok ok qua buona vita ci mette vero da dentro salgiamo con me ma dai ancora con me basta eh vedi che cosa si prova insomma mi tira su e ce l'ho subito accanto in mezzo al nulla dai cazzo dai ma tanto non c'è niente qua niente schiccio porca troia di nuovo dino spaccato il caso non mi viene nessun skill check porca il suo non mi viene nessun skill check eh no c'è avrà una donna no 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 scherzato guarda quasi in secondo qui da lì 距覆 fino a il banaliletto a cui c'è qua dove è mi vieneιο immonte grande guarda qua guarda è i metori qua tranquillo arriva Max che è trattata vai non arrivo tranquillo c'è tempo c'è tempo Non c'è il pietno C'è il pietno Stai guardando me No Sì, non c'è il pietno Sono in un'occhio Sono in un'acqua sta durando tanto sta partita grazie a ruina venivano nati non so che più toglierlo in ok guarda e porca puttana mi vuole mi vuole sto qua che sei spazzato? porca troia andrea ma io non sto toccando niente ragazzi io ho le mani sul pad ma il discorso sempre neanche gatto che cazzo succede? ok c'è ricorda di me eh quindi termine venendo qua da me è lo stronzo e va bene ma proprio qua c'è la rigiancia no? vi avrà anche custode adesso eh no i ferro non c'ho letto avete già aperto l'altra porta? si si avete già aperto l'altra porta? avete già aperto l'altra porta? si si avete già aperto l'altra porta? cosa? cosa hai fatto? no no dai ma che cosa hai fatto? via 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 no non è andata no di qua no di qua ma chi? sei venuto ma figolo? no sono uscito adesso e ho fuori dalla mappa te la fai max è uscito? si 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 e ho fuori dalla mappa sta bello ma io lo scrivo eh io lo devo scrivere non c'è ma io lo scrivo comunque sta bene stai male lì ahah già ho avuto l'altra buona ragazza ma ah dai ah ah rosiccato malissimo è rosiccato parecchio mamma mia cosa vuol dire invisibile? che è successo? non ti vede ciao fantasma ciao fantasma ci sentiamo ci becchiamo ci becchiamo salve vadi vadi qui c'ho l'innesca io ho un generatore qua e vada che succede dal suo rumore? è anche dal filetto eh la sento è la NURS? che cammina UUUU DIO era pagata streamlabs? ah ecco non ti faceva visualizzare la chat che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è l'albero lì? eeeh 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 fai una roba passa OBS studio passa la paura cazzarola guarda lì no vabbè si vabbè ma cos'è? no vabbè si vabbè ma cos'è? c'è? scassi 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 eh sì ciao Yann ciao Yann Dobb soprattutto se c'è a mannaglia fai gubati è girato intorno ah bello ma che cazzo è sto qua? è piaciuto quello eh no non mi salvà no 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 lei sa lei sa che sta qua brava Andrea ciao ma è stupida non ti ha visto? no non sa? eh questo eeeh ti conviene è più leggero OBS studio aspetta un attimo quindi no vabbè no max no che cazzo cioè qua se stanno a raggiungere certi livelli che eeeh eeeh ma chi è sta qui? vai vai vabbè 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 NELDA pelato di Twitch che cero a terra benvenuti ragazzi benvenuti vabbè 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 vabb Diciamo che sono successe cose Sono successe cose C'è un macello Termine d'oro Tutto nelle tue mani Sì Vieni, corri, corri Non va, non va Non va al Parlo Non va al shootout Facciamo così Facciamo così Che posso fare? Vai, sì, vai Che palle Hai seguito nelle tue mani Eh, non ce l'ho deciso Adesso pure è morto Io ho anche il perk per liberarmi da solo Se non eri morto Mi liberavo di nuovo Mamma mia Mamma mia Ecco Direi che, eh Un questionetto Batti per qualcosa Non va Sì Dopo Devo controllarlo un po' Aia Minchia ma Beh durata Durata niente Sta partita C'è C'è? C'è? C'è roba Ma durata niente Questa partita C'è? C'è? Eh, ti ho fatto bene C'è, d'accordo Ma C'è Boh C'è, d'accordo